Saranno davvero emozioni in musica, per parafrasare un po' il titolo della ampia manifestazione, emozioni in musica che si vivranno a Roseto dal 5 all'8 di agosto con quattro nomi importanti della musica italiana, cantanti o gruppi, ecco Morgan Fascioli dell'organizzazione, che serate saranno? Allora, partiamo con lunedì 5 agosto presso il lungomare di Roseto, Rotonda Nord, con Le Ombre, gruppo storico pinetese capitanato dal dottor Silvio Brocco, La Batteria, che apriranno le danze per Drupi, che sarà la guest star di quella serata, a seguire il 6 avremo l'istadio, per passare poi a Enrico Ruggeri il 7, e concludiamo in bellezza con il grande Massimo Ranieri giovedì 8. E' una manifestazione questa di emozioni in musica che è nata qualche anno fa, quasi per scherzo, ma sta ottenendo grandissimo successo, ormai diventa una sorta di abitudine per l'estate rosetana. Assolutamente, guarda, è nata quasi per gioco, qualche anno fa, durante una cena abbiamo detto perché non facciamo qualcosa per la nostra città, e ci siamo inventati questo format, siamo partiti nei primi anni dedicando il festival alla musica, diciamo, anni 60, per passare poi per gli anni 70 e pian piano traghettarla per gli anni 80. Abbiamo chiamato quasi tutti di quell'epoca, insomma, degli anni 60, tra, ricordiamo qualche nome, la PFM, Patti Pravo, Fausto Leali, Luca Barbarossa, e quest'anno abbiamo fatto un super programma, e penso che sia unico nel suo genere, non solo in Abruzzo, ma sul territorio nazionale, in quanto concerti di questa portata, gratuiti, insomma, non è facile che si verifichi da qualche parte un evento simile. e questo è frutto grazie alla collaborazione di numerosi sponsor privati che ci sostengono e ci danno la forza di andare avanti.